Grazie. Grazie. Buona duello Daniele Arena acquaviva. Ce la fa Daniele Arena commettendo fallo secondo l'arbitro. Pagno ottima la sponda di Berretti che cerca il server a costa. D'esterno è bellissima questa azione della domenica. E anche il portiere della nuova gioiese ancora Cuomo. Lunga Cuomo a cercare la sponda di Tarallo. Ottimo il servizio di Tarallo per la coppia Berretti. Ragosta ancora un miracolo. Ottimo anche il servizio per Arcangelo Ragosta. Serve nello spazio Ragosta Arena. Ci arriva di testa in grassia. Il numero 5 Tricamo. L'arbitro fa proseguire. Compagno ancora in attacco. Ammonite la coppia centrale difensiva. Palla in mezzo. Sforviciata. La tentata da Russo. Un numero che si è visto già spesso. Alfano invece per Ragosta. Ragosta in mezzo. Stacca Cuomo. Ci arriva Arena. Rimette palla in mezzo. Palla forse buona per Alfano. Ammonito Alfano per simulazione. Magari la spinta l'aveva magari in questo primo tempo. Break di Jenny Russo. Di sinistro poi. Bellissima l'azione di Jenny Russo. che... Termina il primo tempo. L'arbitro non fa in tempo a far battere la punizione. 3 a 0. 0 a 0. Il punteggio nella... Ragosta. 1 contro 1 di Ragosta con il diretto avversario. Mette palla in mezzo. Ottimo. Salta Tarallo. Spinto. Vistosamente. Palla. Operazione di fischia l'abito. Parte Tarallo. Batta qua. Batte Ragosta. Forte in mezzo. Si gira ancora Tarallo. Ancora atterrato. Cuomo. Cuomo. Tiro. Di Berretti. Ancora Mirazio. Fa proseguire Emanuele Panini. Panini forte in mezzo. Ancora in grassia. Strega. Le ultime istruzioni anche da... Palla adesso che si impegna. E impegna. Mai è l'aro. Vediamo se Ragosta arriva a ci arrivare sul palo. Ci riesce. Ottimo. Il pallone in mezzo. Tarallo. Non credibile. Ancora... Ad attacco con Esposito. Alfano. Alfano mette palla in mezzo di sinistro. Atterrato Berretti. Atterrato Berretti. Ancora punizione al contrario. Ancora punizione al contrario. Richiama anche la panchina. L'arbitro. Corpo. Accoradito. Vediamo se ci arriva Ragosta. Si ci arriva. Per un po'. Anticipato dal numero 11 con la Fiore. Che si becca anche il cartellino giallo per l'intervento suo arcangelo Ragosta. costo costo di Manuel Panini ancora Panini riesce a servire Arena Arena prova la conclusione rientra su se stesso Manuel Panini ottimo il cross in mezzo si avvetta sulla palla Canotto prova il tiro Canotto troppo centrale ancora Matteo Berretti davanti per Canotto palla che sembra buona Canotto Canotto atterrato ammunizione per Canotto ammunizione per Canotto ammunizione per Canotto esposito mette palla in mezzo esposito Tarallo ancora un fallo fischiato a Tarallo finisce in questo momento la gara Agropoli 0 due torri 0